Ciao a tutti, benvenuti, sono Paolo Peisino del tradingpertutti.com e voglio sottoporvi quella che è la mia analisi ciclica per quanto riguarda il petrolio quindi per quanto riguarda il WTI, quindi gli USOID ho fatto una ciclica partendo ad analizzare la sequenza temporale a marzo del 2015, è abbastanza evidente la precisione che ha il WTI che ha avuto il WTI in questi mesi compiendo dei cicli a 120 giorni con dei cicli poi intermedi molto molto precisi a 40 giorni veniamo comunque a quella che è un pochettino più la situazione attuale sostanzialmente la fase ribassista del petrolio si è conclusa devo andare anzi, a dire il vero, ad aggiungere una trendline perché abbiamo avuto la fine della fase ribassista del petrolio a febbraio del 2016 con la rottura di questa trendline ribassista e una conferma abbiamo sicuramente avuta poi con la rottura definitiva del livello di supporto di 34, 82 e 30 che ha dato appunto dopo il suo ritesto il via alla prima fase rialzista che ha visto come massimo andare a toccare 51, 78 e 37 il 3 di giugno di quest'anno 2016 poi è iniziata la fase di correzione e voglio soltanto farvi notare la precisione veramente che abbiamo avuto dal punto di vista ciclo perché lo si può vedere molto bene vedete che il prezzo è sostanzialmente salito per tutta praticamente la prima fase della metà del ciclo a 120 giorni per poi andare a prendere la direzione di ribasso e andare a chiudere quindi il ciclo di 20 giorni nonostante chiaramente la tendenza sia stata evidentemente a rialzo adesso veniamo comunque a quelle che possono a mio avviso essere le prossime previsioni per quanto riguarda il petrolio io ho segnato tre livelli dati naturalmente anche dall'apporto della ciclo quindi mantenendo comunque gli archi ciclici di 120 giorni con i cicli inferiori da 40 giorni è evidente che i cicli da 40 giorni sono molto sentiti dal petrolio lo vedete di una precisione quasi imbarazzante oserei dire e siamo praticamente molto vicini alla chiusura appunto di un ciclo inferiore a 40 giorni quindi si potrebbero andare a cercare posizioni di due tipologie paradossalmente sia al rialzo che al ribasso tendenzialmente sono più dell'idea di poter vedere il WTI quindi il petrolio andare a testare nuovi minimi più che nuovi massimi in questo momento se vado a seguire la ciclica anche se è evidente che all'interno di un contesto di trend siamo sicuramente in una fase al rialzo non in una fase al ribasso quindi cosa potremmo fare? potremmo andare a cercare delle correzioni da parte del mercato prima chiaramente di poter ipotizzare un'avvenuta inversione del trend e quindi una chiusura al ribasso per quanto riguarda naturalmente un'analisi ciclica quindi direi che andando a tracciare ancora una piccola trendline qui ricordo che siamo sul giornaliero quindi viene un po' difficile andare a tracciare una nuova trendline perché non abbiamo una precisione tale da poterla tracciare almeno che non andiamo a inserire una trendline di questo genere che è vero che è stata rotta però la possiamo anche mantenere come supporto quindi in questo caso chiaramente un supporto dinamico in quanto verrà rotto una sola volta su questo livello non potrà venire rotto successive volte naturalmente perché non si tratta di una linea orizzontale quindi direi che a mio avviso il livello da attenzionare mi è sparita la lavagna ok il livello da attenzionare sarà 50, 48 e 21 in questo caso chiaramente non badiamo al 21, al 20 grossomodo dipende anche molto dalla piattaforma che si va a utilizzare quindi il singolo punto e vedete che il prezzo praticamente è assolutamente contenuto all'interno di questa fase, fascia di lateralità ok che va da 51, 78 e 37 a 50, 48 e 21 ed è la fascia su cui secondo me si potranno prendere appunto decisioni operative io sarei più tranquillo e riuscisse a vedere una rottura chiaramente al ribasso di 50, 48 e 21 però esclusivamente dopo aspettare una conferma naturalmente anche di rottura della trendline per avere una conferma ulteriore di ciclo al ribasso c'è di chiusura ciclica quindi di una tendenza al ribasso che non sarebbe male vedere e chiaramente compiere in questa maniera quindi una rottura, un ritest della trendline quindi molto vicino alla resistenza di 50, 48 e 21 per andare a chiudere quantomeno vedete questa linea viola che non è nient'altro che il ciclo a 40 giorni quindi che compone naturalmente un terzo anzi in questo caso la chiusura dei due terzi del ciclo a 120 giorni che ripeto è davvero molto preciso certo che dovessimo poi assistere anche a una rottura più forte quindi più duratura del livello anche di 48 e 34 loro potremmo anche ipotizzare poi chiaramente dovesse tenere anche ancora la fase ribassista che potrebbe essere accompagnata vedete da una trendline similare di questo genere potremmo anche assistere a un ulteriore depreciamento del petrolio per andare a chiudere ovviamente un in ciclo a 120 giorni però gli archi ciclici non vogliono assolutamente dirci dove andrà il prezzo ma quella che è probabilmente la tendenza di fondo quindi potremmo poi anche assistere al livello chiaramente del ciclo vedete di 40 giorni anche a un rallentamento della discesa perché no anche a una piccola ripresa anche se è leggera dell'aumento della costruzione del petrolio per poi comunque andare a chiudere molto probabilmente con un ribasso quindi attenzionerei comunque appunto i due livelli per cercare posizioni qui siamo sul deri ovviamente ribassista sotto il livello di 50, 48, 21 e per essere un po' più sicuri sotto il livello di 48, 34, 45 mi raccomando in entrambi i casi aspettare comunque sempre un retest per essere sicuri che non si tratti di falsi breakout e quindi di trovarci poi sostanzialmente sorpresi sostanzialmente il ciclo a 40 giorni se dovrebbe chiudere intorno al 17 di novembre lo vediamo qua, la data grossomodo è quella il 17 di novembre dovremmo chiudere il nostro ciclo a 40 giorni quindi io sarei per andare a cercare posizioni a ribasso anche se naturalmente comunque il livello di 51, 78 e 37 non lo possiamo escludere che dia l'inizio a una nuova fase al rialzo quindi dia comunque inizio a un nuovo ciclo a questo punto rialzista quantomeno un ciclo poi di 40 giorni naturalmente rialzista quindi in questo momento rimarrei un attimino alla finestra ad aspettare appunto la rottura di 50, 48 e 21 io con il mio gruppo dove utilizziamo ovviamente la ciclica andrò probabilmente quando avrò chiaramente dei segnali di prezzo comunque alla ricerca di posizioni a ribasso confidando su quello che mi fa vedere il prezzo nel passato quindi confidando sulla precisione assoluta che hanno avuto tutti i cicli di 40 giorni come sono stati rispettati i cicli da 120 giorni vedete con la loro comunque il loro inizio a rialzo nonostante un trend sicuramente a ribasso in questo caso ovviamente ciclo quindi trend a rialzo e spinta rialzista sicuramente più importante rispetto alla spinta ribassista cosa che invece abbiamo avuto in queste due situazioni in quanto qui il trend era già assolutamente direzionale verso il ribasso tracciando una semplicissima trendline abbiamo avuto modo di capire quando era il momento di andare alla ricerca di posizioni a ribasso dal punto di vista ciclico vedete che il petrolio risponde davvero molto molto bene quantomeno in questo momento, in questi ultimi due anni a un'analisi ciclica alquanto precisa che ci dà delle indicazioni sicuramente molto valide vi invito naturalmente a seguire il mio sito e a iscrivervi alla mia newsletter dove potete ricevere tantissime informazioni gratuite e anche tanta formazione gratuita per imparare a utilizzare l'analisi ciclica e l'analisi tecnica così come la vado a utilizzare io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per avermi seguito e per seguirmi tutti i giorni nelle mie dirette mattiniere del mattino ciao a tutti quanti e buon weekend e vi ringrazio per avermi seguito il video